Senti Aldo, ti voglio dire una cosa. Che cosa? Ho voglia di fare l'amore. Queste cose l'hanno preparato, me lo dici così su due piedi. In questo momento non è possibile, lo sai devo uscire con gli amici, ho una riunione. Domani vediamo domani. Domani nemmeno è possibile, c'è la riunione di condominio. Dopo domani ho promesso a Nicola di andare a pescare con lui. Quando manco a farlo al posto sono impegnato tutta la settimana. E va bene, io comunque sabato faccio l'amore. Chi c'è c'è?